Dunque, oggi parliamo di multistrato. Allora, intanto, cos'è un multistrato e come lo riconosciamo? Quasi sempre un multistrato non ha il riporto, il cosiddetto doppio fondo, che per esempio potete vedere qui. Lo vedete? Questo è uno dei migliori sottofondi esistenti al mondo, ma è un sottofondo. Normalmente il multistrato non ce l'ha. Questa è una casserola multistrato, questa è un'altra casserola multistrato, vedete? Niente sottofondo. Poi, il fatto che non ci sia il sottofondo però non vuol dire che è un multistrato. Normalmente un multistrato non ha il sottofondo, ma una casserola potrebbe non avere il sottofondo e non essere multistrato. L'altro indizio è questo. Ve lo faccio vedere, vedete? Si vede uno spessore di solito piuttosto sostenuto e due diverse colorazioni tra la guaina interna e esterna e l'anima centrale. Ve la mostro più da vicino, vediamo se riusciamo, vedete? Ve la mostro anche in quest'altra casserola. Guardatela. Forse qui si vede un po' meglio, vedete? Che abbiamo una zona interna, l'anima, che è alluminio, poi un rivestimento sia nella superficie interna sia nella superficie esterna, ma qui in sezione si vede ovviamente poco perché lo spessore sarà un decimo di millimetro, che è di acciaio. Un multistrato normalmente è costituito da un corpo realizzato in alluminio con un rivestimento sia interno sia esterno in acciaio. Alcuni multistrati a due strati, per esempio, sono di rame e acciaio. Ecco, per esempio, questo non ha spessore. Ovviamente è un'ottima casseruola, però questa non è un multistrato. Allora, le casseruole in multistrato, vi mostro la mia preferita, la de Meillet. È uno spettacolo. Secondo me è una delle migliori casseruole al mondo. Già solo il manico, vale la pena di acquistarla, non perché sia bello, ma perché è il manico perfetto in termini tecnici. Questa è un sette strati, quindi non solo alluminio e acciaio, ma addirittura in mezzo c'è una lega d'argento. C'è a suo costo, sfiora le 300 euro e non è enorme, guardatela. È una 24 centimetri di diametro. Questa è una de Meillet. Quest'altra, invece, è un po' più piccola. È una baldassara Agnelli. Pentole Agnelli sarebbe il marchio. Poi ci sono altre simili, costa decisamente meno. Per esempio, ci sono le de Bouillet, che si pongono a metà strada tra le de Meillet e le pentole Agnelli. Ce ne sono anche altre. Ruffoni, per esempio, è un ottimo prodotto italiano. A livello, non dico di de Meillet, ma quasi. Fa un bellissimo multistrato, una linea fantastica che ho avuto per tanto tempo. Poi, quando partivo in Olanda, la vendetti perché avevo troppe cassevone in casa. Però la de Meillet me la sono tenuta e questo già vi dice qualcosa. Allora, si usano principalmente per l'induzione. Sono nate per l'induzione, in pratica. Però, guardate, hanno così tanti vantaggi che ormai si tende a usarle anche sui fuochi normali. Ovviamente, hanno qualche caratteristica svantaggiosa. Per esempio, il costo. Cioè, una buona multistrato costa sempre molto di più che una casseruola o una padella in alluminio crudo. Le buone multistrato arrivano a costare quasi come una casseruola di rame. Non proprio, ma insomma, non è tanto distante. Va detto anche che sull'induzione il vantaggio che il rame ha sul gas un pochino si perde. Cioè, resta ancora preferibile al multistrato ma la differenza di costo che c'è tra il multistrato e il rame tende a non giustificare l'acquisto del rame sull'induzione. Quindi, sull'induzione con il multistrato siamo quasi al top. Mentre invece, no, all'alluminio corre il porto sotto d'acciaio per andare, per poter funzionare sull'induzione. Perché a quel punto tutto il vantaggio dell'alluminio è quasi perso. E' meglio che un normale acciaio, ma io vado decisamente con un multistrato. Allora, il concetto qual è? Il concetto è che un multistrato tu metti il calore sul fondo e l'alluminio dell'anima della nostra casseruola ti porta il calore fino in alto. Quindi tu cucini da tutti i lati. Hai una cottura più regolare, tempi inferiori di cottura, miglior sviluppo di vapore nel caso in cui tu mi piazzi su il coperto. Soprattutto riduci gli hot spot. Non li annulli, perché gli hot spot, cioè i punti di concentrazione del calore, un po' ci sono sempre, però un po' li riduci rispetto ad altri materiali. Perché? Perché puoi tenere le temperature più basse. Non perché in realtà per sua caratteristica il multistrato li riduca. Anzi, per sua caratteristica, parità di gas e multistrato tende ad aumentarli rispetto all'acciaio. Ma il vantaggio è che tu puoi tenere una temperatura decisamente più bassa perché la casseruola ti lavora su tutta la superficie fino in alto. Questo, peraltro, ti consente di non violentare i bordi e non avere problemi di sovracottura sulle parti laterali perché a volte noi per avere calore anche sui bordi spariamo a manetta il gas che esce e poi a questo punto va a gustionare tutto. Cosa che non dovrebbe mai avvenire, la fiamma non dovrebbe mai uscire dal bordo della casseruola. Mi pare di avervi detto tutto. Quindi, all'interno in alluminio e rivestimenti interno e esterno, in acciaio e per l'interno dell'alluminio intendo l'anima, in sezione del nostro corpo è fatto in alluminio, solitamente, e poi abbiamo le guaine in acciaio sia all'interno sia all'esterno. Normalmente è un triplo strato. Acciaio, alluminio, acciaio. In alcuni casi, per le casseruole in acciaio, sono due strati, casseruole scusate in rame e acciaio, sono due strati, appunto quello interno, sottilissimo, quasi invisibile, se non fosse per il colore, in acciaio e tutto il corpo della casseruola in rame. A tutti gli effetti vengono considerate di rame, nessuno parla di multistrato in questi casi, però tecnicamente sarebbe un multistrato. Sono specifiche quindi per l'induzione, per l'induzione io considero una realtà obbligatoria, cioè io guardo il presupposto che chi si compra l'induzione, compra un multistrato, perché comprare un multistrato vuol dire fare una scarpa e una ciabatta, come dicono alcuni. Se avete domande, scrivetemi, insomma, compatibilmente col tempo, un po' alla volta vi risponderò. Per adesso, ciao a tutti.